Brodo delle mie brame, sei il più buono del reame? Oh regina della cucina, il tuo brodo è sensazionale, ma oggi ce l'è uno uguale. Da te Star ha imparato la ricetta e te la ridà perfetta. Brodo pronto Star, con le verdure e le carni migliori, è buono come il mio. E con le stelline fai felici bambini e bambine.